10.57 alle 17.01 Marco Eletti chiama due volte il 118. Nella prima telefonata si percepisce subito dopo il pronto dell'operatore la frase detta da un agitatissimo e ansimante Marco Eletti Guardi, se le ho anche ammazzati non lo so. Mentre nell'ultima durata circa 8 minuti lo stesso rappresentava sempre urlando e con fare concitato e polemico, ripetendo più volte all'operatore l'espressione Lei mi sta... Di aver rinvenuto il padre per terra con il sangue intorno alla testa ed un martello accanto alla richiesta di verificare i segni vitali del padre rispondendo in un primo momento che vedeva il padre muovere la bocca e respirare e pochi minuti dopo di non vederlo più respirare tant'è che l'operatore lo invitava a praticare al padre il massaggio cardiaco e di vedere la madre con le vene tagliate e un coltello in mano riferendo altresì all'operatore di averli lasciati mentre stavano dormendo e aggiungendo che forse avevano bevuto del vino ma che lui non aveva bevuto e che avevano litigato per questioni inerenti la casa e che la loro non era una famiglia perfetta e che anche la mamma si offendeva per nulla ed il papà urlava ed aggiungendo la seguente frase io non so che colpa ne abbia se ho voluto venire via di casa mamma mia è lo stesso Marco Eletti da ammettere durante l'interrogatorio di aver fatto ricerche sull'uso di veleni e sostanze per stordire i genitori e ammette anche di aver acquistato un prodotto, una sostanza che però secondo la sua versione sarebbe servita al padre che aveva difficoltà a prendere sonno per cui iniziano anche un po' come dire le bugie dentro il suo racconto ascoltate a Guidetti Sabrina sarebbe stato somministrato un ingente quantitativo di benzodiazepine di cui nessuna traccia veniva rinvenuta né all'interno dell'abitazione delle vittime né all'interno dell'abitazione dell'indagato l'indagato in sede di interrogatorio però ha riferito di aver acquistato lui stesso per il padre su richiesta di quest'ultimo e su indicazioni da parte del padre del sito dove procedere all'acquisto in almeno tre occasioni delle benzodiazepine perché i farmaci che l'uomo prendeva per difficoltà legate al sonno non gli erano più sufficienti precisamente di aver acquistato dal sito a metà e da fine anno 2020 e nel mese di gennaio 2021 delle benzodiazepine che gli venivano consegnate al suo indirizzo perché il padre poteva non essere in casa o impegnato a casa con l'anziana nonna perciò avrebbe avuto delle difficoltà a ricevere il pacco ma lo stesso indagato riferiva di aver fatto ricerche su come stordire con le benzodiazepine e l'interesse dello stesso per i veleni e per sostanze utilizzate per assopire o stordire Vittorio mi sembra difficile pensare che uno che ha organizzato raccontando poi lo sta raccontando tutto questo possa dire non so se l'ho ammazzato io veramente io non riesco a comprendere c'è qui uno psichiatra adesso mi dirà il perché il perché si arriva a dire no ma non si è reso conto di averlo ucciso ma come si fa a dire una frase del genere non solo Eleonora quello che avete sentito fino adesso è la nota redatta dal procuratore reggente Isabella Chiesi e sono tutte le contraddizioni di Marco Eletti la vedete? noi abbiamo per adesso soltanto visto soltanto una parte ma sembra e lo dico tra virgolette con massimo rispetto sembrano delle ammissioni inconsce a partire appunto dalla prima frase quando chiama alle 16.57 il 118 dicendo guardi se li ho ammazzati non lo so ma poi il racconto è pieno di contraddizioni tantissime contraddizioni considerate che lui è arrivato qui a pranzo con una bottiglia di liquore sabato e con dei pasticcini e proprio forse lì ha tentato di avvelenare con le benzodiazepine praticamente dei psicofarmaci per stordire i genitori ma per sua stessa missione dicendo appunto di aver comprato questi farmaci non solo nel suo portafoglio sono stati trovati anche dei fogli redatti un disegno con la scritta gun, pistola ma allo stesso tempo una tra virgolette passione per i veleni una ricetta di un veterinario e quindi anche dei fogli redatti appunto su alcuni veleni non soltanto le telecamere che vedete inquadrate in questo momento avrebbero ripreso gli arrivi e le uscite di casa proprio di sabato e nel suo racconto non collimano con quello che poi ha riferito agli inquirenti ci sarebbe un buco di mezz'ora perché lui ha detto che era stato con i genitori aveva lavato per terra avevano parlato poi avevano litigato poi era uscito ma aveva lasciato il portafoglio a casa ed è rientrato e quando è rientrato ha trovato la scena raccapricciante che non stiamo a riraccontarvi nelle altre dichiarazioni che ha fatto ci sono altre contraddizioni proprio con il 118 contraddizioni che non collimano tra quello che ha detto al 118 al telefono e quello che ha detto ai carabinieri quando è stato interrogato a proposito dello spostamento del corpo questo ragazzo ha la felpa insanguinata ma non soltanto davanti lui ha detto di aver spostato il corpo del padre ha cercato a rianimarlo e tutto il resto ma purtroppo per lui i segni del sangue sono anche nel cappuccio di questa felpa quindi alle spalle considerate che l'uomo il padre di Marco Letti è stato ucciso con 5 colpi di un grosso martello martello è stato rinvenuto soltanto dopo successivamente ai sanitari del 118 non ne ha mai parlato quando l'hanno spostato l'hanno trovato sulla spalla sinistra per cui c'è un racconto il suo allucinante in più dice dopo essere stati con loro Vittorio nei casi di cronaca sono andato al bagno un escalation così tutti uno in fila all'altro di casi di questo genere in cui i figli uccidono i genitori guardate che questa foto qui quella foto dove lui è appoggiato lì sul muretto che guarda non si sa che cosa nulla forse e lì lui praticamente ha fatto già quello che ha compiuto quel gesto terribile che ha compiuto è significativa questa foto sta guardando nel vuoto e non si capisce nemmeno come non si possa avere una non so che ha appena fatto passano pochi istanti minuti uno forse nemmeno un'ora e lui sta lì seduto sul muretto a pensare a un certo punto prende il telefono poi lo riaggancia non si sa chi chiama chi non chiama non si sa che cosa gli passa nella testa Martinotti sono tre passaggi il primo è che lui organizza in maniera pratica tutto quello che deve essere fatto benzodiazepine che sono i tranquillanti l'alcol che è il liquore che in aggiunta rendono la situazione più drammatica rispetto alla situazione compie quello che deve compiere poi il 118 è il momento in cui torni alla realtà già in altre storie passate di omicidi il 118 è sempre un momento di passaggio perché perché arriva la realtà il 118 buonasera che succede devi dire che è quello che è successo oddio torno nella realtà lì si dissocia non so neanche io se ho ucciso o meno mio non so neanche se è morto il terzo passaggio è come lo vediamo in questa immagine nell'immagine di prima è la rimozione dell'evento mi distacco emotivamente da quello che ho fatto rimango in una sorta di limbo di vuoto ma c'è la possibilità la rimozione dell'evento poi nei processi come viene come viene lavorata Assuma beh lì soprattutto con quello che sono le dichiarazioni del soggetto perché evidentemente Giovanni è molto più bravo di me su questo aspetto tecnico c'è si percepisce lo scollamento dalla realtà del soggetto quindi il soggetto per un momento non è la realtà successivamente rientra nella realtà qui è il fil rouge sicuramente della puntata c'è un altro aspetto della premeditazione perché probabilmente c'era l'aspetto della casa della vendita della casa si era parlato in questo caso si chiama la premeditazione circostanziata cioè quando è circostanziata al verificarsi o al non verificarsi di una determinata situazione quindi non si verifica quella situazione da quel momento in poi comincia a pianificare per uccidere sicuramente anche da questa immagine e il dopo è quello che ci interessa il dopo allora mettiamo aperto il nostro Vittorio in un altro caso Vittorio rimani lì perché fra poco parleremo di tutto ciò che purtroppo si può comprare su internet con un accesso molto semplice molto facile anche da parti giovani giovanessimi che forse non si erano almeno conto delle cose a questo punto mi viene da pensare così ce lo diranno i nostri